Hanno lavorato senza sosta nelle ultime 48 ore i volontari della protezione civile nissena in collaborazione con le pantere verdi di Caltanissetta hanno spento numerosi incendi in varie zone della città, da via Xiboli alla zona di Gibilgabib, Santa Lucia e Niscima fino ad arrivare in via delle Rose. Le fiamme che in alcuni casi sono arrivate all'ambire e alcune abitazioni sono state domate con fatica. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Rosario Rotondo, coadiuvato dal capo squadra Francesco Monteforte.